Si apre oggi la 52esima edizione del SAI e il Salone Internazionale delle Edilizie e delle Costruzioni che sui temi del progettare, costruire e abitare ospiterà da qui fino a sabato ben 13 iniziative top in 10 padiglioni differenti della Fiera di Bologna e al cui convegno è stato invitato a partecipare anche il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Graziano Del Rio. Noi della redazione di IHC e di System Integrator Magazine siamo qui per documentarvi su quanto sta avvenendo e per andare a vedere insieme quali sono le più importanti novità di prodotto per quanto riguarda il settore della home automation industriale e residenziale.